In questo ultimo periodo è emersa con maggior forza la necessità delle città di spazi in cui poter svolgere attività all'aperto. Bologna ha la peculiarità di avere, subito a sud del centro storico, una grande area rurale, naturale e collinare, i cosiddetti colli di Bologna. In questi mesi molti cittadini bolognesi hanno camminato, esplorato, bivaccato, giocato sui colli, a volte entrando in conflitto con residenti e proprietari dei terreni che hanno lamentato mancanza di rispetto e l'ingresso all'interno di proprietà private. Come ambasciatori di questa città ci siamo chiesti, è possibile pensare ai colli come un parco in cui si possono trovare soluzioni condivise di convivenza senza che le soluzioni vengono dettate dall'alto? È possibile arrivare alla costituzione di un parco collaborativo in cui tutti gli attori del processo trovino un vantaggio? Noi crediamo di sì, fomentando lo spirito di collaborazione tra gli attori locali, creando una rete, scoprendo identità comuni. Crediamo che il primo passo per innescare un dialogo tra gli attori locali sia mostrare loro che esistono realtà simili, vicine ed innovative, generando in questo modo un clima propositivo e di fiducia. Per questo motivo abbiamo raccolto la testimonianza di tre associazioni che operano in Emilia Romagna, tre esempi di buone pratiche che tramite la cultura, l'inclusione sociale e lo sport contribuiscono ad alimentare un ecosistema fondamentale alla sopravvivenza di fragili realtà extraurbane. L'associazione Chiocciola la Casa del Nomade opera nel parco naturale del Sasso Simone Simoncello, gestisce dal 2014 il MUS, Museo Naturalistico e Centro di Educazione Ambientale, e sviluppa progetti per la valorizzazione del patrimonio materiale e di materiale del parco, assieme alla comunità locale. Tra i loro recenti progetti c'è Microcosmi, un programma di attività culturali sperimentali che unisce ambiente e cultura. Il museo è stata per noi un'occasione interessante per consolidare in qualche modo le nostre attività e soprattutto per iniziare ad avere un rapporto con la comunità locale, in particolar modo di Pennabilli, e per includere intorno al museo tutta una serie di progettualità sia all'interno, per cui di didattica e di visita del museo, ma soprattutto all'esterno, perché poi abbiamo capito che di fatto il vero patrimonio non è tanto o solamente quello conservato all'interno del museo, ma è soprattutto quello che poi noi possiamo trovare nel parco. Nel parco, nel territorio del parco, per cui in un'area più vasta, esistono associazioni, soprattutto comunque proloco, che si occupano di valorizzazione del territorio, ma troviamo anche molte persone singole che in qualche modo portano avanti delle attività proprie, sia di ricerca, ricerca storica, ambientale o per esempio di artigianato, per cui la nostra relazione in realtà riguarda una rete di associazioni, ma anche di persone. L'attività di connessione con queste realtà è un'attività che in qualche modo noi cerchiamo di alimentare, è un qualcosa che in qualche modo vogliamo e per cui spendiamo delle energie per cercare, mappare e per metterci in contatto, proprio perché anche il lavoro che facciamo è basato su questa relazione. Credo e spero che le nostre attività siano ben percepite dagli abitanti. Una cosa certa è che abbiamo cercato di gestire in qualche modo il processo con cui iniziare e sviluppare queste attività con una grande sensibilità. Allora, Microcosmi è stato nel 2020 un programma di iniziative di vario genere, dalle semplici passeggiate a appunto anche concerti o visite alle realtà locali, attività per bambini, molte cose. Per cui un programma che ci è stato chiesto dall'ente parco, dal parco del sasso Simoncello proprio per permettere alle persone di conoscere anche grazie alle guide ambientali, le peculiarità naturalistiche, ambientali, storico, culturali di questi luoghi. Ci è piaciuto provare a sperimentare appunto anche linguaggi diversi, per cui anche attraverso l'arte, la musica, oltre che appunto al racconto che può avvenire dalle persone. Abbiamo coprogettato e realizzato insieme tutta una serie di eventi che venivano svolti all'interno del parco e che coinvolgevano artisti o attori anche venuti qui per produrre degli spettacoli e dei lavori collaborando con le nostre guide, per cui anche andando proprio a cercare dei luoghi adatti per inventare a partire da quei luoghi delle nuove rappresentazioni teatrali o spettacoli di danza. Un'iniziativa per esempio che facciamo da alcuni anni e che ospitiamo qui si chiama Habitat ed è proprio basata sul confronto, sui temi dell'abitare, in particolar modo la montagna. Ecco che Habitat sono tre giorni in cui abitiamo insieme il parco Begni di Pennabilli e varie persone, non solo associazioni, anche persone, si incontrano anche a partire da alcuni input comuni che cerchiamo di dare attraverso degli esperti o la lettura condivisa di alcuni testi o la visione di un film e discutere proprio su quelle che sono le questioni che riguardano l'abitare i luoghi montani. Siamo a Casa Fanchi che è uno dei progetti aperti dall'associazione Chiocciola. Casa Fanchi è un borgo prima di tutto dove un gruppo di anziani da ormai vent'anni si è impegnato a raccogliere varie tantiche, conservarle in campo e mantenere anche vive tutte quelle che sono le tradizioni contadine che ovviamente sono andate perse nell'ultimo secolo. A Casa Fanchi io insieme agli altri ragazzi dell'associazione ci divertiamo e ci impegniamo nel continuare questa piccola tradizione che arriva da fuori e rimane innamorato di questo luogo tant'è che questo gruppo di turisti americani che ogni anno viene a visitare il paese di Pennabilli e la Val Marecchia ha deciso di sostenere il nostro progetto e di compensare alle emissioni di CO2 dovute al loro viaggio dagli Stati Uniti fino a qui, offrendoci un budget per acquistare e piantare alberi da frutto. Centro Antartide è un centro di studio e comunicazione ambientale nato nel 1992 su iniziativa dell'Università Verde di Bologna da un'associazione di studenti fuori sede che aveva la passione per l'ambiente e propose al Comune di Bologna di creare un centro con la finalità di coniugare il mondo della ricerca ambientale e scientifica dell'Università con la società civile. Il progetto Parti Collaborativi nasce da un'idea del Centro Antartide che era stato sollecitato da ormai quasi cinque anni fa dalle aziende che stavano partecipando alla gara per la gestione del verde urbano del Comune di Bologna. In quell'occasione noi già collaboravamo con queste aziende e ci invitarono a elaborare una proposta che potesse arricchire un'idea di gestione del verde pubblico, tecnica chiaramente perché questa era la loro competenza e noi proponemmo questo ambito perché c'era già una sensibilità del Comune di Bologna di lavorare sulla gestione dei beni comuni e quindi facciamo una liaison fra quello che era la gestione del verde e l'aspetto sociale. Innanzitutto i parchi, i parchi sono stati individuati sulla base di indicazioni che avevamo ricevuto anche dagli amministratori locali perché erano aree che presentavano delle criticità, delle criticità a livello di presenza di cattive frequentazioni piuttosto che di altri contesti. Alla luce di quello abbiamo lavorato su una mappatura del territorio, cioè andare a scoprire chi su quel territorio interveniva, già operava e il lavoro che noi abbiamo fatto è quello di creare una rete, cioè una rete di dialogo fra i soggetti, di esplorazione degli spazi e di scoperta di quelle che potessero essere le potenzialità di lavoro sugli aree verdi. Quello che noi abbiamo fatto è stato quello di rafforzare le relazioni fra i soggetti, di creare le occasioni operative concrete per poter lavorare insieme perché magari si conoscevano ma non avevano mai lavorato insieme, non avevano mai trovato l'occasione o le modalità operative per farlo. Il progetto è nato con l'idea di integrare o alleggerire diciamo così il lavoro di manutenzione delle aree verdi, quindi ci siamo molto più proiettati su un piano che era quello della appunto della costruzione di comunità. I risultati che abbiamo visto sono stati quelli di creare delle sorti di come dire gruppi spesso informali dei comitati di gestione informali delle aree verdi che hanno continuato a lavorare in quegli spazi e che li hanno soprattutto presidiati, cioè noi abbiamo creato una situazione dove le persone potevano presidiare come nel luogo dove ci troviamo oggi questi spazi di viverli e di continuare ad alimentare la presenza e questo chiaramente ha un impatto anche da un punto di vista economico perché il presidio allontana quelli che possono essere atti vandalici piuttosto che cattive gestioni. Le persone si occupano più di organizzare iniziative, di segnalare quelle che possono essere le problematiche e di autogestire, cioè lo spazio pubblico è diventato a tutti gli effetti uno spazio di tutti e uno spazio anche loro. Noi abbiamo lavorato indicativamente in quasi un poco meno di 20 aree verdi nella città di Bologna e molte di queste hanno continuato ad avere questa presenza, in alcuni casi più organizzati, in altri casi meno organizzata, però tutti hanno cominciato ad innamorarsi del loro parco. Sono in programma in Emilia Romagna e anche a Bologna delle nuove interventi di messa a dimora, di nuove alberature e l'idea è quella di accompagnare questi processi con un'azione che non valorizzi solo l'aspetto ambientale di questi nuovi interventi ma che valorizzi anche l'aspetto sociale e quindi questo è un po' il lavoro su cui stiamo lavorando oggi. Quindi quello che noi promuoviamo, come dicevo poco fa, non è tanto l'idea di cogestire il verde ma di utilizzarlo come un'occasione proprio di interrelazione fra le persone, le associazioni e i gruppi informali. Questo è uno dei nostri obiettivi, cioè nel senso che il senso di appartenenza passa da un'acquisizione di identità rispetto agli spazi e quindi nel momento in cui le persone sentono, pur essendo uno spazio pubblico, lo sentono come proprio, allora gli scatta il passaggio nella gestione e nella manutenzione del bene, del bene comune. Proprio a seguito del progetto parchi collaborativi noi abbiamo organizzato ormai un paio di anni fa un convegno nazionale in cui abbiamo voluto incontrare varie realtà che su tutto il territorio italiano si occupano di queste tematiche e quindi che operano sulle aree verdi in un'ottica proprio di sviluppo sociale. Bologna Montana Bike Area è un progetto ideato e sviluppato da alcune associazioni sportive che hanno unito le loro forze con l'obiettivo di creare nel loro territorio, l'area attorno a Loiano, nell'Appennino Bolognese, un comprensorio mountain bike. Hanno quindi ideato un'originale soluzione di convivenza tra bikers e i proprietari dei terreni. Bologna Montana Bike Area nasce dall'esigenza di unire le forze con tutte le associazioni presenti nel territorio, chi da più o meno anni, per lavorare su un unico progetto che è quello di valorizzare il territorio e mantenere attive tutta la rete sentieristica presente nel territorio. Il problema principale è la mancanza di comunicazione tra noi biker e i proprietari dei terreni. Per individuare un'area geografica del progetto principalmente ci siamo arrivati quasi naturalmente, nel senso che da un lato abbiamo visto quali sono le potenzialità e le opportunità che abbiamo qui legate appunto alla tipologia dei sentieri e all'aspetto paesaggistico. Dall'altro canto c'è un aspetto invece più politico, più gestionale legato al fatto che da qualche anno quattro comuni del nostro territorio si sono uniti per collaborare in ambito turistico. Quindi sicuramente questa joint venture ha aiutato a definire quello che era il confine amministrativo e nel quale muoversi. Poi in realtà il confine va visto come una cosa molto fluida per cui non necessariamente altri territori non potranno aderire a questo tipo di iniziativa. Si è riusciti attraverso una campagna di crowdfunding a trovare le risorse per poter lavorare assieme a un tecnico ed a un legale su una soluzione che tuteli siano i biker ma in primis anche i proprietari dei terreni. Il primo problema da risolvere era appunto quello del legato al passaggio dei sentieri su proprietà private e sicuramente a livello di scelta, di percorso si è cercato di evitare sicuramente gli esproprio e quindi trovare una soluzione più di dialogo tra i biker, l'amministrazione e le proprietà private. Allora siamo ormai praticamente alla conclusione di questa fase di studio e si è inquadrata una formula di contratto di comodato d'uso in cui appunto il proprietario concede il passaggio e la manutenzione dei sentieri per un determinato periodo di tempo in cambio appunto dello sgravio delle responsabilità e di una garanzia di tutela dal punto di vista anche di manutenzione del territorio. Le amministrazioni comunali sicuramente in questo progetto hanno un ruolo principalmente di facilitatore, di promotore, di sostenitore e ci sono tanti modi per fare in modo che questa visione possa diventare realtà e molto spesso passano anche attraverso dei bandi pubblici per cui in questo senso le amministrazioni proprio in accordo e in collaborazione con le associazioni possono andare ad attingere fondi proprio destinati a questo tipo di attività. Allora questo progetto può avere grandissime ricadute sull'economia locale nel senso che abbiamo tanti esempi in Italia e nel mondo di aree dedicate alla mountain bike che campano di questo nel senso che esiste un'economia legata all'outdoor e nello specifico alla disciplina della mountain bike e quindi siamo sicuri che se portato avanti nella giusta maniera con il coinvolgimento delle attività locali non possa che essere di giovamento per tutti. Grazie a tutti.